inchiesta affidamenti blitz di finanza e polizia negli uffici del comune clamoroso vl coach sacripanti si dimette per motivi strettamente personali ad ancona i leader della sanità internazionale per il g7 salute dengue e disinfestazioni consigli di aspessa contrasto della zanzara tigre lago di mercatale lo svuotamento dei fanghi crea una strage di pesci buona serata e benvenuti al telegiornale di questa sera oggi è giovedì 10 ottobre apriamo questa edizione con l'inchiesta degli affidamenti diretti del comune di pesaro alle associazioni opera maestra e stella polare un caso sul quale al di là delle commissioni di indagine politica è stato aperto anche un fascicolo della procura di pesaro un'inchiesta che questa mattina ha portato ad un blitz di guardia di finanza e polizia negli uffici comunali per una serie di controlli vediamo blitz della polizia di stato della guardia di finanza questa mattina presso gli uffici del comune di pesaro e quelli dell'assessorato alla cultura palazzo mosca a seguito delle indagini sono in corso per gli affidamenti fatti dalla precedente amministrazione nei confronti delle associazioni opera maestra e stella polare le forze dell'ordine si sono recate in comune da franco arceci ex capo di gabinetto del sindaco ricci in quanto persona informata dei fatti e non in quanto indagato come lo stesso arceci precisa il sindaco di pesaro andrea biancani ha dunque voluto commentare l'accaduto esprimendo la sua fiducia presso la magistratura ed il massimo sostegno per la trasparenza da parte della comune sta succedendo quello che era prevedibile sapevamo che la procura aveva avviato un'indagine quindi quando si avvia un'indagine è normale che ci siano i controlli direttamente anche negli uffici che sono interessati e io quello che rimarco è ovviamente come ho sempre detto la massima disponibilità e la massima apertura a mettere a disposizione tutti quelli che sono i documenti che sono a nostra disposizione mi auguro che l'indagine finisca cerchi di riesca a definire nei tempi più rapidi possibili quello che è avvenuto quello che non è avvenuto in maniera tale da poter ripartire con maggiore serenità non nascondo che questa situazione è una situazione comunque che la quale avrei fatto volentieri a meno è una situazione pesante il sindaco biancani poi chiarisce il ruolo di arceci del rapporto di quest'ultimo con il comune di pesaro ora che l'incarico da mandato di ricci risulta terminato stiamo definendo una sorta di collaborazione perché franco arceci comunque rappresenta tutta avuta una storia all'interno dell'amministrazione comunale e ho chiesto a franco arceci di come dire nel tempo se può in qualche modo sostenermi anche su determinate anche per raccontarmi quelle che sono alcune scelte che sono state fatte il perché sono state fatte alcune scelte quindi franco arceci al momento non ha un rapporto definito con il comune diciamo che franco arceci sendo stato tantissimi anni all'interno di questa struttura oggi ogni tanto capita e si confronta con il sottoscritto per quelle che sono alcune scelte che magari vanno portate avanti il centrodestra pesarese appreso della blitz da parte delle forze dell'ordine ha subito espresso il suo parere tramite un comunicato diffuso a mezzo stampa alcuni esponenti del consiglio comunale inoltre come bartolomei marchioni e boresta si sono recati in comune al momento della blitz esprimendo il loro parere a riguardo questo chiaramente conferma che tutte le criticità fino ad oggi rilevate da tutto il centro-destra ed evidenziate dall'esame dei documenti e dall'approfondimento effettuato anche in sede di commissione controllo atti e garanzia e anche in sede di commissione partecipate hanno avuto riscontro anche con l'intervento della guardia di finanza e della squadra mobile quindi questo significa che le nostre sicuramente erano criticità ed erano dubbi e perplessità assolutamente fondate che oggi appunto trovano questo importante riscontro noi siamo assolutamente fiduciosi nell'operato della polizia di stato nell'operato degli organi della magistratura e quindi ci auguriamo che questo sia proprio un passo importante per arrivare a fare chiarezza e a dare la risposta a tutti i cittadini su questi affidamenti del comune di pesaro ed ora una notizia di sport completamente inaspettata la carpegna prosciutto basket pesaro ha reso noto questo pomeriggio come coach stefano pino sacripanti abbia comunicato alla società la propria volontà di lasciare la guida tecnica della prima squadra e il ruolo di general manager la decisione dell'allenatore è dettata da motivi strettamente personali che al momento non gli permettono di proseguire nel suo lavoro la società intende mantenere il più stretto riservo sulla vicenda attraverso un comunicato chiede il massimo rispetto della privacy di sacripanti ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il proprio futuro personale e professionale un fulmine a ciel sereno sul futuro della vl che naturalmente sarà una tematica al centro della puntata di questa sera di insieme a canestro su rossini tv in diretta vi ricordiamo alle ore 21 ed ora cambiamo argomento ci spostiamo ad ancona capoluogo che oggi ha ospitato i leader internazionali della sanità di 16 paesi in occasione della partenza dei lavori del g7 salute ancona si trasforma nel baricentro planetario della sanità con i lavori delle g7 salute iniziati oggi alla mole vanvitelliana il presidente della regione acquaroli e il sindaco di ancona silvetti alla presenza del ministro della sanità orazio schillaci hanno accolti i principali ministri segretari della salute internazionale da 16 paesi dai delegati del regno unito a quelli degli stati uniti dalla germania passando per francia canada albania brasile india giappone e arabia saudita il tutto alla presenza dei delegati della fao e dell'organizzazione mondiale della sanità prospettive internazionali su cui lavorare sul tavolo di un sistema di sanità marchigiana presa modello per l'occasione ancona le marche oggi sono la capitale della sanità mondiale dove tanti ospiti di caratura internazionale si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro credo che questo debba essere un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità sotto molteplici punti di vista ribadisco che uno dei motivi per cui abbiamo scelto di venire le marche perché l'ospedale universitario di Ancona dai dati del ministero di Agenas è risultato per il secondo anno consecutivo il miglior ospedale pubblico italiano e quindi questo testimonia quanto nelle marche si sia attenti alla salute dei cittadini La salute marchigiana nonostante tutte le criticità post covid e tutte le difficoltà di questo momento che purtroppo dipendono da tante variabili e non tutte le conducibili chiaramente al nostro operato è una sanità che a livello nazionale sicuramente ha dei risultati importanti è una regione che storicamente è tra le prime per il rispetto di Lea è una regione benchmark quindi unisce la qualità dei servizi anche alla tenuta dei conti nelle marche per due anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico d'Italia e soprattutto dato che si parla anche di longevità la nostra è una regione che ha nel suo DNA la longevità una delle regioni più longevi d'Europa e abbiamo IRCA che è l'unico istituto nazionale dedicato proprio alla ricerca sulla geriatria Proprio l'invecchiamento attivo è stata una delle tematiche centrali del confronto La telemedicina è fondamentale per l'invecchiamento attivo può far sì che il sistema continui e deve continuare ad essere sostenibile per tutti può dare possibilità a chi non ha magari la fortuna di vivere in una grande città e può aiutarci anche a seguire meglio l'invecchiamento dei nostri anziani ma questo non è una spesa, dobbiamo essere chiari, questo è un investimento è l'investimento migliore che oggi possiamo fare ed è un investimento necessario se vogliamo che il sistema sanitario nazionale continui com'è ad essere sostenibile ed universalistico per tutti Nel dialogo con i ministri economici internazionali lo studio di una nuova architettura capace di affrontare e prevenire le possibili pandemie del futuro Se l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a finanziare il fondo per le future pandemie così è stata e così continuerà ad essere e c'è grande attenzione anche per la lotta all'antimicrobico resistenza abbiamo stanziato 40 milioni di euro e nella prossima finanziaria ci saranno sicuramente altre risorse da dedicare alla ricerca e soprattutto ad avere a disposizione antibiotici innovativi che permettano di sconfiggere quella che io chiamo la pandemia di oggi cioè l'antimicrobico resistenza nel quale il nostro paese purtroppo ogni anno perde tante persone Ministro Schillacci che nell'occasione ha riservato una sua riflessione anche sul focolaio di Dengue che sta interessando proprio le marche Io credo che per il momento la situazione sia sotto controllo però anche la Dengue rappresenta un altro invito a avere questo approccio One Health nel quale fortemente crediamo tant'è che nella ristrutturazione del Ministero della Salute abbiamo previsto un dipartimento che si occupi proprio di queste tematiche E come avete sentito dal servizio, dalla voce del Ministro della Sanità Schillacci anche quello della Dengue è un tema sul quale è porre la massima cautela a tal proposito proprio questa notte a Pesaro si è tenuto il secondo intervento di disinfestazione da Zanzara Tigre nella zona mare e Porto, un trattamento la cui efficacia è stata analizzata ai nostri microfoni dal Presidente di Aspes Luca Pieri, ascoltiamolo Si è tenuto nella notte il secondo intervento di disinfestazione adulticida nella zona mare Porto di Pesaro per evitare la proliferazione della Zanzara Tigre Una disinfestazione che arriva sull'onda del secondo caso di contagio da Dengue accertato in Viale Rovereto rispetto al precedente primo caso diagnosticato in un residente di Viale Napoli Un intervento che è stato disposto dal Comune ed effettuato da Aspes con un sistema di rorazione Abbiamo fatto insomma buona parte della zona mare, lato ponente dando una risposta molto alta A questo però ho aggiunto che noi già da qualche settimana stiamo facendo l'ennesimo giro l'arvicida per poter fare in modo che le uova non si schiudano nelle gatitoie stiamo facendo in questi giorni appunto di nuovo il giro in tutta la città in tutte le gatitoie della città, frazioni comprese e in questo modo cerchiamo di dare una copertura molto alta Va però fatto un appello perché le nostre azioni di contrasto appunto alla Zanzara Tigre alla Zanzara in senso generale che poi trasmette con le sue punture la Dengue o altro serve l'aiuto dei privati perché abbiamo riscontrato che in molte zone ci sono tantissime occasioni di ristagno in giardini private quindi a tutti i cittadini di Pesaro noi invitiamo appunto a evitare qualsiasi occasione in cui possa essere ristagno dell'acqua anche piovana per cui le Zanzare poi depositano uova e la schiusa comporta tantissime Zanzare è un'evoluzione, il caldo di questi giorni sicuramente le aiuta a far sì che ci sia questa loro azione di proliferazione noi facciamo di tutto ma serve l'aiuto per essere ancora più efficaci di quello che è l'azione pubblica anche l'aiuto del privato il proliferare della Zanzara Tigre viene comunque combattuto da anni con interventi già dalle periodo primaverile estivo facciamo minimo 5 giri in tutte le gaditoie pubbliche della città e quando dico della città dico dell'intero territorio comunale e facciamo anche delle azioni adulticide in caso di necessità dove, cosa so, nelle scuole, nei giardini delle scuole degli asili, nei parchi, proprio dove può servire considerate che l'adulticida è un'azione molto limitata nel tempo perché l'azione di rorazione può valere per 2-3 giorni poi alla schiusa delle uove successive le Zanzare ritorno ma qui ritorno al discorso di prima cioè alla nostra azione di profilassi e di controllo che facciamo sul territorio non solo in questo periodo ma in tutto il periodo primaverile estivo a cui quest'anno abbiamo aggiunto ulteriori giri proprio per cercare di far fronte al fenomeno serve l'aiuto dei privati se si evitano questi tipi di ristagni noi riusciamo ad essere molto più efficaci nella nostra azione di contrasto ad Urbino è comparso nella notte davanti alla facoltà di scienze politiche dell'università in piazza Garibaldi uno striscione in favore di Tiziano Lovisolo il ragazzo a scuolano di 24 anni neolaureato all'Atene Urbinate finito agli arresti domiciliari dopo l'accusa di lesioni ad un poliziotto durante la manifestazione pro palestina avvenuta a Roma lo scorso sabato Tiziano Libero Free Palestine la scritta appesa al cancello della facoltà poi rimossa in mattinata le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad un incidente stradale avvenuto a Pesaro attorno alle 13.30 sulla strada interquartieri in prossimità dell'ipermercato DM per cause al vaglio della polizia un autobus diretto a Carpegna ha tamponato una lancia Y il cui occupante è stato soccorso in ambulanza per le ferite riportate e dopo alcuni giorni di blackout è tornata in funzione la biosfera installazione iconica di Pesaro 2024 collocata in piazza del popolo e vittima di un atto di vandalismo e sabotaggio tecnologico avvenuto la notte fra sabato e domenica scorsa nel frattempo è stata sporta denuncia contro i gnoti e sono stati acquisiti filmati della questura e della polizia locale che stanno analizzando le immagini al fine di individuare i responsabili ed ora ci spostiamo nel comune di Sasso Corvaro dove l'intervento di svuotamento dei fanghi dalla diga sul lago di Mercatale ha creato un drammatico impatto ambientale producendo una strage di pesci morti soffocati un'impressionante moria di pesci nel lago di Mercatale come testimoniato anche dalle immagini di alcuni nostri telespettatori recapitate a Rossini TV in questi giorni c'è stata un'impressionante strage di quintali di carpe, cavedani, alborelli e carassi morti soffocati dopo che nei giorni scorsi la diga di Mercatale ha aperto le paratoie riversando colate di fango a valle del fiume Foglia un'operazione di svaso disposta dal Consorzio di Bonifica delle Marche per un piano di manutenzione programmato che ha avuto un effetto micidiale sulla fauna del bacino idrico l'anomalo svuotamento del lago ha portato sul posto le guardie etiche ambientali della Fipsas e i carabinieri del nucleo forestale per le verifiche assieme allo stesso Consorzio di Bonifica e a Marche Multiservizi che attraverso un comunicato ufficiale hanno fatto presente la gravità di una situazione sulla quale si sta redigendo la stima dei danni provocati con la valutazione di eventuali sanzioni un comunicato in cui si sottolinea l'importanza di una futura gestione della diga coordinata con tutti gli organi e gli enti coinvolti per evitare il ripetersi di simili situazioni e ringraziamo i telespettatori che ci hanno inviato alcune delle immagini che vi abbiamo poco fa mostrato in merito a quanto accaduto nel lago di Mercatale restando in tema di segnalazioni vi mostriamo come sia già stato effettuato l'intervento di pulizia dal legname depositatosi nello squero del porto di Pesaro che vi abbiamo mostrato nel notiziario di ieri come si vede da queste immagini il legname è stato prontamente rastrellato grazie ad un intervento di pulizia e bonifica disposto dall'autorità portuale un'altra segnalazione pervenutaci da Giulia nostra telespettatrice riguarda invece via Curiel nel centro di Pesaro dove da una ventina di giorni è presente questo buco sui San Pietrini largo 20 centimetri e potenzialmente pericoloso un buco che fino al mese scorso era coperto da un tappo protettivo che è rimasto danneggiato la segnalazione invita ad una celere riparazione e come vedete le vostre segnalazioni sono molto importanti perché poi tramite la voce di Rossini TV tante cose si possono risolvere domenica 13 ottobre invece ricorre la giornata nazionale delle famiglie al museo un appuntamento che Pesaro celebra coinvolgendo il museo liveriano e i luoghi culturali di Novilara e Candelara domenica 13 ottobre ricorre la giornata nazionale delle famiglie al museo un'occasione che intreccia la dimensione culturale con quella familiare nella quale Pesaro si propone con un percorso da mattina a tardo pomeriggio che si diramerà tra Novilara, Candelara e il museo archeologico liveriano proposte che cominciano alle 10 di mattina al centro archeologico di Novilara con la direttrice della rete museale della via Flaminia Vanessa Lani che guiderà bambini e genitori lungo il percorso a spasso coi Piceni un progetto che si chiama Orientering archeologico sostanzialmente è un itinerario attraverso le vie del borgo una specie di caccia al tesoro in questo itinerario a forma di tappe i ragazzi dotati di una cartina dovranno trovare dell'oggettistica da Novilara ci si sposterà a Candelara dove alle 15 si andrà alla scoperta del mondo dei filati al museo dell'arte tessile PAC nell'occasione di questa giornata del 13 ottobre a Candelara faremo un laboratorio di tessitura io seguirò il discorso della tessitura proprio per dare continuità al museo proprio tessile con un'esperienza su telaio quindi le persone che parteciperanno potranno fare l'esperienza direttamente su piccoli telaietti a chiodi con materiali naturali prettamente esistenti nel museo che sono lana, cotone, juta eccetera e lavoreremo con materiali specifici che sono spolette che sono proprio dei materiali tecnici per lavorare la tessitura a telaio telaio e fili e ci divertiremo in questa esperienza per far vedere di che cosa si tratta e tramandare in qualche modo questa tecnica che non vogliamo vada nel dimenticatoio insomma nel tempo una giornata delle famiglie al museo che si concluderà al museo archeologico liveriano dove sarà lo stesso fondatore Annibale degli Abati Olivieri ad accogliere i bambini per una visita guidata al museo con un appassionante caccia al reperto la visita sarà in costume, interpreterò il ruolo del nostro fondatore Annibale degli Abati Olivieri Giordani che illustrerà i pezzi della sua collezione che lui sin dall'inizio nel suo testamento diede alla gioventù culta e toperosa questo è il progetto, questo è l'importanza del museo che è un luogo per i giovani per apprendere e far amare la loro storia perché dalla storia, dalle radici della nostra città siamo il presente Pesaro 2024 non sarebbe nulla se non avesse le radici anche nel suo museo, nella sua biblioteca come in ogni secondo sabato di ottobre, il 12 ottobre torna la giornata nazionale dell'Ordine di Malta e Pesaro sarà una delle 35 piazze d'Italia in cui membri e volontari dell'antico ordine religioso laicale e ospedaliero faranno conoscere l'impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità dalle 9 alle 19 in piazzale Collenuccio i volontari illustreranno i progetti che l'Ordine di Malta ha avviato negli anni in favore dei più vulnerabili sempre sabato all'hotel Charlie di Pesaro a partire dalle 17.30 si terrà il talk show dal titolo Intelligenza artificiale verso il terzo millennio appuntamento organizzato dall'associazione Non ti scordar di me col patrocinio dell'Università di Urbino che sarà condotto dal popolare divulgatore scientifico televisivo Alessandro Cecchipaone un confronto sull'intelligenza artificiale che spazierà dall'etica alla tecnologia fino alla psicologia e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma vogliamo chiuderlo questa sera occupandoci di teatro mancano infatti pochi giorni alla partenza del 77esimo Festival d'Arte Drammatica GAD 77esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica che capita in un anno speciale quello in cui Pesaro è capitale italiana della cultura e quindi il programma vuole ben festeggiare questa ricorrenza così straordinaria sarà un festival che si svolgerà interamente al Teatro Rossini alcuni appuntamenti in Sala della Repubblica la maggior parte proprio nel teatro è un festival che vedrà tutti i giorni dal 14 al 27 ottobre in cui ci saranno eventi a volte anche più di un evento al giorno oltre agli otto spettacoli in concorso selezionati fra i quasi 100 che sono arrivati all'associazione selezionati dalla commissione composta da me, Giuseppe Esposto anche eventi fuori concorso di un valore speciale una vetrina riservata alla scena teatrale pesarese quindi vetrina capitale in cui saranno impegnate alcune delle più rappresentative compagnie teatrali del territorio la piccola ribalta, il teatro accademia, il teatro delle ombre e altri eventi fuori concorso ritorna a Pesaro il musical, un musical tutto dedicato a Shakespeare not to be della compagnia dell'anello di Forlì e altri due eventi di un particolare valore e che segnano credo la cifra del festival di quest'anno inaugureremo il 14 con una giornata tutta dedicata a Giorgio Nardone psicologo di fama nazionale, internazionale che affronterà con i ragazzi, con gli educatori i temi dell'adolescenza, le problematiche connesse all'adolescenza e la sera una conferenza aperta alla città tutta la giornata è gratuita sulla paura di vincere quindi tematiche che sentiamo molto vicine e che auguriamo possano essere di sostegno alla popolazione soprattutto quella dei più giovani e un altro evento, il 26 ottobre alle 11 del mattino uno spettacolo proposto dalla Lega del Filodoro che quest'anno festeggia il 60esimo anniversario abbiamo voluto con loro festeggiare questo importante evento assieme all'Università dell'Età Libera con uno spettacolo di una intensità che si può facilmente intuire uno spettacolo bello dal punto di vista teatrale e intensissimo dal punto di vista emozionale che vede coinvolti i ragazzi ospiti della Lega del Filodoro accompagnati dagli educatori un festival veramente da non perdere due settimane di festa del teatro per il festival non solo più antico ma anche più prestigioso d'Italia e legato al teatro non professionistico e come ben sapete il GAD è un festival che noi seguiamo da tantissimo tempo quindi state collegati su Rossini TV per avere sempre novità e aggiornamenti sugli spettacoli di quest'anno e chiaramente sulle premiazioni che seguiremo e subito dopo questa edizione del nostro telegiornale stasera alle ore 20 potete ascoltare e vedere chiaramente un approfondimento dedicato a Cantiano Fiera Cavalli e poi alle 21 vi aspettiamo in diretta al canale 80 chiaramente sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito internet per seguire una nuova vincente puntata di Insieme a Canestro questa sera avremo Octavio Maretto guardia della Carpegna Prosciutto Pesaro e Mauro Procaccini coach e opinionista e chiaramente si parlerà di tutte le notizie attuali che vi abbiamo comunicato anche in questo telegiornale e poi domani c'è con voi Daniele Sacchi alla conduzione della nostra seguitissima Rassegna Stampa e vi ricordiamo anche che domenica alle 21.30 ma anche lunedì alle 21 potrete vedere su Rossini TV Canale 80 Real Sebastiani Rieti contro Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non perdetevi questi appuntamenti per seguire la vostra squadra di basket Noi ci fermiamo qui vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni vi auguro una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti